ciao a tutti siamo alle fasi finali avevamo preparato questi tronchetti di legno d'olivo per fare un orologio prima abbiamo fatto il foro nella posizione centrale dove inserire il perno dell'orologio successivamente con una fresa da legno abbiamo fatto lo scavo per alloggiare il meccanismo sul retro ecco qui che si vede lo scavo poi abbiamo trattato il legno d'olivo prima con dell'olio e vedete che le venature sono state messe particolarmente in evidenza cambia il colore a seconda del proprio del pezzo di tronco passando dell'olio sulla superficie si mettono proprio in evidenza le venature naturali prima naturalmente è stato lisciato con della carta vetrata molto fine e poi come possiamo vedere l'olio rinvigorisce il legno mettendo in evidenza proprio le caratteristiche naturali successivamente una volta che l'olio è stato assorbito passiamo della vernice apposta per legno è una vernice all'acqua che dovrebbe dare una leggera lucentezza al legno si aspetta una mezza giornata che si asciuvi completamente vediamo come sono evidenti le venature naturali del legno d'olivo e qui vediamo l'effetto finale l'orologio completato con i numerini le lancette in questo caso abbiamo applicato un meccanismo di alta qualità e messo anche dei gommini per proteggere sia l'orologio che il muro delle lancette cromate qui invece abbiamo utilizzato una vernice acrilica oltre a per i numeri anche per le lancette anche qui è stato applicato il meccanismo e della gomma di protezione l'effetto finale è molto naturale e secondo me davvero di grande pregio vi saluto se vi interessa continuare a vedere i nostri video iscrivetevi al canale e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per meccanismi al quarzo, lancette e tanti articoli adatti alla vostra creatività ciao a tutti e a presto